Fiera Cavalli ha permesso di ammirare la bellezza delle diverse razze equine negli spettacoli organizzati nell'ambito della manifestazione, eventi nei quali immancabile è stata la presenza dei cavalli murgesi con il gruppo equestre Il Nero Luminoso. L'innato fascino dei cavalli murgesi ha incantato grandi e piccini nella 125esima edizione di Fiera Cavalli, la manifestazione che ha portato a Verona per quattro giorni l'eccellenza del mondo equestre. Tra i protagonisti delle presentazioni, ammirate da migliaia di spettatori, i bellissimi esemplari dell'Accademia Nazionale di Arte Equestre di Corato. Siamo impegnati da circa 30 anni nella valorizzazione di questo splendido esemplare soggetto di cavallo murgese che è l'emblema della nostra terra, che si ricollega alla storia, alla cultura, alla tradizione del nostro territorio e noi cerchiamo di essere un po' ambasciatori di questo messaggio un po' in tutta Europa. Arte e bellezza. I cavalli murgesi sono stati tra i protagonisti dell'edizione 2023 del Galà d'Oro. Il gala si chiama Arte e ad ognuno di noi è stato dato il compito di rappresentare un'opera d'arte, un quadro. A noi è toccato l'onore di rappresentare Giovanni Fattori. Giovanni Fattori è stato un grande pittore italiano che ha rappresentato la Maremma e il risorgimento italiano. Noi tocca fare i soldati questa volta e lo facciamo con i cavalli murgesi perché rappresentano un cavallo della tradizione anche militare. Un modo innovativo per avvicinare davvero tutti all'incredibile patrimonio naturale di Puglia. Rappresenta anche un valido cavallo per le attività di ipoterapia, data la sua condizione caratteriale di estrema dolcezza e di estrema disponibilità al lavoro.